Benvenuti in questa nuova puntata del 2023, la prima in realtà caro Vittorio. Quindi prima di elencare le occasioni di questa sera ricordiamo i nostri telespettatori che Elite Car si trova a Magenta in corso Italia 40, ma abbiamo anche un'altra sede a Dormelletto in corso Cavour 106 ed è praticamente gestita da Alessandro Castiglioni che vi aspetta a braccia aperte. Detto questo non perderei altro tempo e comincerei subito a elencare le occasioni di questa sera. Carissimo Vittorio, prima di elencare le occasioni di questa sera e continuare con le nostre promozioni eccezionali, spendo due parole veramente velocissime per proporre ai nostri telespettatori un nuovo progetto che Elite Car ha appena da poco tempo avviato, che è Elite Car Luxury, quindi reparto vetture di brand molto alti. Supercar, bravissimo Vittorio. Come questa bellissima RS6 dai 600 cavalli, in questo caso vettura nuova da immatricolare, però abbiamo la possibilità sicuramente anche di portare a casa delle vetture sempre di brand molto importante, anche a chilometro zero o comunque con pochissimi chilometri entro l'anno di vita. Sempre prodotto che giustamente... Ufficiale, sempre da casa madre. Marchi come Porsche, Maserati... Perfetto, quindi se il cliente viene da noi e ci fa una richiesta su una vettura importante, sicuramente siamo in grado di portarla a casa dall'estero o anche dall'Italia. Insomma, da tutti i nostri fornitori ufficiali, noi riperiamo il prodotto e lo rivendiamo appunto al nostro cliente con dei prezzi veramente vantaggiosi. Vi ricordiamo che Elite Car non è solo importatore di auto appunto dall'estero di tutta la gamma sia Volkswagen che Audi, ma anche di nuovo. Nuovo che può essere in pronta consegna o da ordinare con i nuovi tempi di consegna che venendo a trovarci potrete scoprire. Di tutta la gamma appunto Volkswagen e Audi poi è possibile fare anche il progetto valore Volkswagen o Audi Value, che non è nient'altro che un finanziamento di due o tre anni della macchina, dove il cliente decide un limite di chilometri ed eventualmente un acconto, al fine di questo finanziamento viene già stabilito da casa madre un valore futuro garantito dall'auto, che può essere visto o come una maxirata eventualmente da rifinanziare o come appunto un valore che casa madre già garantisce, che bene o male è circa sempre del 50%. Ottimo Vittorio. Ricordiamo anche ai nostri telespettatori che nel finanziamento possono inserire i vari pacchetti, che sono pacchetti di assicurazione piuttosto che di manutenzione programmata, con dei prezzi veramente ottimi e dedicati ai nostri clienti, e anche un'altra cosa importante, la valutazione dell'usato. Allora, cosa vuol dire il discorso appunto di prima del anticipo rata continuativa, cioè fissa e eventuale riscatto o restituzione dell'auto? Che come anticipo potete anche versare, noi ovviamente vi andiamo a quotare la vettura, e potete versare l'importo quotato come anticipo del vostro usato. Quindi diciamo che è molto flessibile la cosa. Molto conveniente. Molto conveniente. Altrimenti possono fare dei classici finanziamenti con una durata massima di 96 mesi, ma possono chiudere il finanziamento in qualsiasi momento senza pagare penali e interessi passivi dopo 12 mesi che stanno, diciamo, sostenendo la rata. E questa è un'altra cosa molto importante, sempre da sottolineare. Esatto. E prima di passare agli altri brand che Elite Car vi può proporre, allora, spendo due parole veloci per ricordare ai nostri telespettatori che Elite Car è anche una struttura che noleggia le automobili. Abbiamo una struttura dedicata al noleggio, quello diciamo a breve termine, dove si può noleggiare la macchina da uno a tre, a una settimana e a un mese, diciamo. E quindi è un breve termine classico. Magari avete la macchina al service, ferma, piuttosto che la macchina in carrozzeria, quindi potete venire comodamente qui, noleggiare la vostra vettura. Abbiamo tantissime macchine disponibili, abbiamo circa 300 macchine, parco vetture, anche forse ultimamente anche più di 300 vetture disponibili per il noleggio a breve termine. Poi abbiamo anche il noleggio a lungo termine, che viene praticamente gestito sulle vetture aziendali di tutti i brand che noi possediamo, quindi potete gestire il lungo termine da un anno a due a tre anni, dando appunto un chilometraggio che voi percorrete annualmente, se volete anche un anticipo, anche con la vettura usata, che se volete per mutare, ovviamente la vettura usata gli viene dato un importo e questo serve per abbassare la rata di noleggio. Dopodiché c'è una restituzione, un cambio di autovettura, se vi siete trovati, si spera di sì. Il noleggio vi ricordo che comprende tutto, una rata ma anche dei servizi collegati al noleggio a lungo termine, quindi voi dovete solo venire qua, come dire, quando la macchina necessita del tagliando, cambio gommi piuttosto che, lasciare le chiavi, in breve tempo vi fanno, diciamo, le operazioni di manutenzione e così via e poi potete andare con la vostra bella macchinina. Quindi questo è un servizio molto importante. Ricordiamo anche che c'è un ufficio preposto nel seguirvi, anche 24 ore su 24, per eventi voali si spera di no, però incidenti o comunque un servizio 24 ore su 24. Disagi, danni, eccetera. Ottimo. Vittorio, ci siamo trasferiti nel salone Mercedes e ovviamente parliamo del brand di prestigio che abbiamo qui in Elite Car ormai da tanti anni. Ricorda i nostri telespettatori che siamo importatori ufficiali di prodotto derivante dalla fabbrica, utilizzato dal dipendente Mercedes di Stoccarda, macchine che hanno la certificazione del chilometraggio e possono essere anche gestite con estensione di garanzia ufficiale in base all'anzianità dell'auto. Quindi prolungare la stessa, diciamo, garanzia di 24 mesi, portarla a 48, ripeto, in base all'anzianità dell'auto. Detto questo, sono vetture, vi ricordo, che sono anche IVA esposta, molto importante, quindi possono essere rifatturate sia un'azienda sotto leasing e anche per chi purtroppo ha l'agevolazione con legge 104, possono essere fatturate al 4%. Direi di iniziare con nuova classe A. Hai detto bene Alberto, infatti classe A è possibile averla a disposizione in versione sport con fari full LED, cerchi in lega, navigatore e monitor grandi, a partire da 22,8 e 90, più spese di matricolazione. Ovviamente abbiamo la possibilità di avere gli altri allestimenti, quindi l'allestimento premium, o anche questa bellissima A35 con 306 cavalli a trazione 4x4, disponibile, ne deve arrivare una in versione 45 con 421 cavalli, veramente un bolide. Quindi ogni tipo di vettura, in base al segmento dell'auto, possiamo recuperare con prezzi veramente vantaggiosi. Hai detto bene Alberto. Passiamo a classe B, Vittorio. Prima di passare a classe B, Alberto, volevo ricordare ai nostri telespettatori che su classe A è possibile, non solo su classe A, ma anche su altri modelli, comunque è possibile apportare delle modifiche estetiche all'auto, come il cambio dei paraurti, la verniciatura delle pinze, le colorazioni dei cerchi, eventualmente anche, o appunto delle wrappature direttamente sull'auto. E intervenire anche nella parte del terminale, perché noi siamo in grado di gestire proprio il terminale completo di, diciamo, di classe A, Golf, GT, piuttosto che, quindi andare a enfatizzare molto a livello sportivo il sound dell'auto, che è molto importante, con ovvio anche delle ottime, come dire, surplus per quanto riguarda anche i cavalli, quindi la potenza, lo spunto, eccetera. Quindi questo è molto importante. Passiamo a classe B, quindi. La classe B è una vettura veramente studiata per famiglia, con un'ottima capacità di carico, trazione anteriore, anche disponibile 4x4, con varie motorizzazioni, benzina, gasolio, con cambio meccanico a 6 rapporti, ma anche a cambio automatico a 7 rapporti doppia frizione, in vari allestimenti, sport premium, vetture a partire da 23.890 euro più spese di immatricolazione. Andiamo avanti con Mercedes CLA, in versione coupé o shot in brake, anche qui diesel o benzina, manuale automatico, in base alle esigenze del cliente. È possibile averla da 29.890 euro, più spese di immatricolazione, e ricordiamo sempre i tassi agevolati sui finanziamenti. Assolutamente sì, e ovviamente anche sul finanziamento la supervalutazione dell'usato, che può essere data in anticipo, ovviamente per accorciare la rata, o comunque per abbassare il valore della rata. Detto questo, continuiamo con GLA, nuova GLA e GLB, sempre vetture aziendali con pochissimi chilometri, in arrivo a breve, alcune sono in casa, alcune sono in arrivo a breve, con tutte le motorizzazioni disponibili, benzina, gasolio, e anche per GLA sul prodotto ibrido plug-in. Vetture a partire da 34.890 euro per classe GLA e 36.890 euro per classe GLB. Detto questo, ovviamente siamo in grado di procurarvi tutta la gamma Mercedes, come nuova classe C in versione berlina Station Wagon, come classe E anche per chi fa il lavoro, per esempio, portante di tassista o NCC, con prezzi veramente a modo, quindi ottimi. E direi di andare oltre adesso e parlarvi di service. Ed ora ci siamo trasferiti in un reparto molto importante per la nostra azienda, reparto service nell'effettivo il reparto accettazione attiva. Quindi qui accettiamo appunto le macchine per quanto riguarda tagliandi, carrozzeria e tutto quello che è il mondo, diciamo, del service, per quanto riguarda Mercedes e Smart. Due secondi veramente per elencare un'iniziativa molto importante che è Elite Card. Quindi i nostri clienti che vengono a trovarci saranno poi omaggiati di questa carta, dove si possono caricare dei punti e questi punti possono essere spesi in tutto quello che è il merchandising Mercedes, quindi tutto ovviamente prodotti ufficiali, ma non solo, anche nei servizi che proponiamo, come la vendita delle gomme estive e invernali, complete anche di cerchi, con promozioni particolari, piuttosto che appunto i servizi anche di nulla, anche revisione, tutti i servizi che Elite Card ha da proporre, carrozzeria, eccetera, possono essere anche gestiti con la nostra Elite Card, quindi avere uno sconto perché i punti accumulati sono abbastanza importanti. Detto questo possiamo trasferirci. Andiamo a vedere l'altra parte di accettazione, in particolare nella sezione dedicata ad Elite Card Sport, dove come vi dicevo prima appunto si possono apportare le modifiche all'auto, come vedete colorazione pinze, cambio del paraurti o della mascherina, in particolare i Mercedes. Sempre in questa parte di accettazione c'è anche la sezione dedicata all'Express Service, quindi dedicata a NCC e tassisti, con sconti dedicati come l'olio al 50% e mano d'opera con uno sconto particolare. Ottimo Vittorio, non dimentichiamo anche l'iniziativa collegata alla vendita delle gomme, con un sconto fino al 45%. Detto questo, allora Vittorio, penso che non ci resti che salutare, ovviamente ringraziare i nostri telespettatori di tutto il tempo che ci concedono ogni volta e aspettarli numerosi e cosa dire, grazie a tutti, alla prossima. Buona serata. Siamo con? Eh, ah non lo so, perché mi hai fermato? Che c***o fai? Ah no, 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 telecamera no. Hai rotto c***o. Italia 40 e abbiamo anche un'altra, ho sbagliato dai, l'ho presa male. Hai rotto c***o. Hai rotto c***o. Freddie Mercury, ah Freddie Mercury. Va bene. Andiamo, iniziamo, iniziamo col discorso serio. Prima di proporre il resto, diciamo, di quello che tua sorella, quella grandissima, ha fatto, diciamo che ha creato un'importante, diciamo, innovazione, iniziativa. Grazie, non mi univa, scusami il termine, caro Vittorio. Hai rotto c***o. Scusa da rifaccio. Mi aspettavo subito. Ed ecco, ed eccoci, ed eccoci, vai, dimmi quando. Scusa da rifaccio.